Siamo a febbraio, il mandorlo è in fiore, quali le allergie in questo periodo? In questo periodo si sta avvicinando la sagra del mandorlo in fiore che ad aggrigento si ripete ogni anno e vengono anche visitatori dall'esterno e la caratteristica è proprio di vedere il mandorlo in fiore. Vi sono dei sintomi allergici come la congiuntivite e la rinite. La congiuntivite è al solito caratterizzata da laggrimazione, arrossamento e prurito endoculare. Raramente si riscontra muco mattutino perché si presenta in una forma modesta. Pure modesti sono i sintomi dell'arinite con starnuti abbondanti, profusi con gocciolamento o imbottimento delle fosse nasale con tappi di muco. Questo è per quanto riguarda il mandorlo, ma in questo periodo vi è pure in pollinazione il cipresso. Il cipresso dà pure dei sintomi oculorinitici un pochettino più intensi e più duraturi nel tempo. Tanto che in questo caso è consigliabile anche l'utilizzo dell'immunoterapia desensibilizzante specifica. Per quanto riguarda la pollinazione siamo alle porte della primavera, anche se ancora abbiamo un freddo intenso. I pollini più frequenti ad agrigento sono la parietaria, detta anche erba muraiola, che si trova adesa alle mura delle case vecchie. In particolare ci riferiamo al centro storico di agrigento, ma anche nei vari paesi della provincia. Poi in ordine di frequenza ci sono le graminacee e l'olivo. La pollinazione dell'olivo è di 30-40 giorni, però da casi di asma lieve e moderato di una certa intensità. Come si combattono queste allergie? Sì, ovviamente con la prevenzione allergologica e nello stesso tempo con un'accurata visita allergologica mediante sempre i testi di prima scelta che sono i testi cutani. Però i primi testi, alcuni sono già stati ritirati dal commercio, mentre altri ancora resistono perché bisogna seguire la nuova normativa europea. Quindi è il compito nostro degli allergologi cercare di essere i più precisi possibili perché poi i pazienti vogliono le spiegazioni da noi a tal proposito.